Entrano Dugarry e Savicevic, la classe non è acqua, si dice così. E Dugarry ne regala una doppia dimostrazione che porta in parità i rossoneri che non hanno affatti conti con Luiso. Sacchi, da poco sulla panchina rossonera, schiera al centro dell'attacco il francese Dugarry, che ripaga la fiducia dell'ex CT Azzurro andando in gol di testa, sull'invitante traversone di Simone. Ecusi al ventesimo è arrivato il gol del pareggio. Baggio ha recuperato il pallone quasi sulla linea di fondo. Lo ha offerto a Dugarry che non ha avuto difficoltà a battere abate. Al dodicesimo puntuale è arrivato il gol del francese, che dato in partenza con Reitziger per Barcellona, ha voluto lasciare un segno tangibile. Pronto al cross, Ambrosini si sistema il pallone, cross basso, c'è Baggio, Baggio, all'indietro, e Baggio ha difeso la palla in mezzo all'area, non era facile assolutamente. Dugarry ci voleva questo gol del Milan, troppo importante finire questo primo tempo e in parità sarebbe stato difficilissimo recuperare il secondo tempo, ma ci sono ancora 45 punti. La gioia di Dugarry, un gol fondamentale per lui dopo la tentativa anche di Popan. Mette dentro un 46esimo, rivediamo, bravo anche Ambrosini a tirer fatto. E' qui, è qui decisivo. Popan subito respinge a Stun e Dugarry trova il parco giusto e porta il Milan in parità, una parità che vorrebbe dire qualificazione ai quarti di finale, quindi situazione rimediata in questo momento per il Milan dopo le paure.